So, Dance Space è un gioco nuovo commercial e abbiamo ritornato da qui in Europa che basa sulla tecnologia Kinect, quindi sono stati alle gambe che vanno a riprendere i movimenti del ballerino e i quali devono seguire il coreografo. Più è similare alla figura mensuale, più punti di prezzo e con abbastanza carina, più calorie spesi. Quindi c'è l'anno di calorie che spese per il gioco. Per il gioco di giocare in 2, in 4, in 6. Per il gioco della musica vi fanno il link a tutto il mondo. Quindi adesso stiamo cercando un'indonesia, inscritto su due ragazzi. Siamo collegati con la stessa canzone. e adesso vedo che ci compete con tutti dentro il mondo. Vediamo che c'è una cosa molto bella. Oltretutto poi non si può allungare con il proprio nome, quindi a me ne impeccherà per in più dei movimenti in più a delle musici dei suoi personali, tutte le stranotte. E' essenzialmente padre. Grazie a tutti.